Siamo con Samuele Rossi, regista della Strada verso casa, un film che negli ultimi tempi ha girato l'Italia ma ha girato anche il mondo. Che impressioni dopo il Festival del Cinema di Roma che è stata finora l'ultima tappa percorsa appunto da questa pellicola. È un percorso al momento che devo dire ci ha anche sorpreso, non perché non credevamo che il film che avessimo fatto fosse una buona opera. Di questo eravamo convinti, però sapevamo che il percorso che l'ha segnata era un percorso difficile, pieno di insidie, pieno di ostacoli. Sapevamo che sarebbe stato difficile conquistare un po' gli spazi che invece sono arrivati. Insomma siamo partiti da New York ad agosto e poi è arrivato un ottobre molto pieno con Siena, i tre premi a Siena, Portland e poi questa cosa meravigliosa del San Paolo International Film Festival, una delle cornici più importanti al mondo, soprattutto per le opere prime dove il film è stato accolto molto bene. Sono state cinque proiezioni intense dove il pubblico è sempre rimasto molto emozionato di quanto visto sullo schermo. E poi Roma, vuol dire una sorta di tappa conclusiva italiana, un festival che insomma si sta ritagliando un proprio spazio importante nel panorama, almeno festivaliero italiano e che ha saputo accoglierci secondo me con molto entusiasmo. Guardando un po' quella che è stata la preparazione di questo film, questo film parla di dolore, parla di ferite, parla di una sofferenza come succede nel film, parla di una sofferenza a volte risolta o almeno un tentativo di risolvere. E tu nei backstage che ho visto, anche in alcune scene del film, si rivede molto te, l'hai dichiarato tu stesso tempo fa. Sì, è vero. Sicuramente il film parte, probabilmente tutti i film partono da un'esigenza personale, quindi non mi voglio distinguere. Credo che qualcosa che voglio assomigliare a un'espressione, a una forma d'arte, se così la si può definire, deve per forza di cose in qualche modo partire da un elemento interiore, da un aspetto che in qualche modo è appartenuto in modo forte, violento, in modo anche bello alla propria esistenza, alla propria vita. C'è molto di me e sicuramente si può dire che il Big Bang di questo film, il punto d'origine, è sicuramente un qualcosa che mi ha segnato, che è un rapporto intenso con la mia famiglia, un passato familiare molto, insomma, vissuto con un certo attaccamento e quindi la necessità di capirlo e di riproporlo, però non sotto una forma egoistica di rielaborazione dove l'opera d'arte si ferma a quello che voleva dire molto egoisticamente l'autore, ma volevo condividere l'esperienza del dolore e questo piccolo, umile, modesto pensiero che è quello che in qualche modo il dolore, facendo parte della vita, va affrontato e forse esiste una possibilità per ricostruire la vita al di là del dolore. Io questo volevo raccontare, in qualche modo volevo sognare che potesse essere così per me, per la mia famiglia, per tutti quelli che vivono il dolore. Non penso esista un individuo che si possa esentare dal vivere il dolore e quindi io credo fortemente che in qualche modo di fronte a un dolore si possa però pensare che ci sia una vita al di là di quel dolore. Tu hai parlato di una possibilità, in realtà nella pellicola ci sono più possibilità in quanto la strada verso casa è più storie che in qualche modo si intrecciano tra di loro, partendo appunto dal dolore, dalla sofferenza, anche in ambiti diversi, con età anagrafiche diverse. Ecco, tu rispetto a tutto il cast, tu e il cast, anzi, come avete vissuto questa storia, queste storie intrecciate? Perché poi anche nelle dichiarazioni rilasciate da Marverti, da tutto il cast, si capisce che effettivamente questa sofferenza ha un po' pervaso, anche in maniera evidentemente positiva, a volte, il film. Beh sì, mi rifaccio un po' alla sintesi del premio che abbiamo vinto a Siena, che dice appunto un film che tratta la tematica del dolore in modo ricoroso, vivendola in una prospettiva di speranza. Ecco, ci sono entrambe le sfere e queste entrambe le sfere, come dire, sono state vissute in modo intenso dal cast proprio perché sapevo e sapevamo tutti che questo film e queste tre storie sarebbero state raccontate nel modo più eloquente possibile solo attraverso gli attori. È un film all'interno del quale gli attori, il cast, sono estremamente fondamentali, oltre alla mia regia o a tutte le componenti artistiche che vanno a fare il film. Gli attori qua sono i protagonisti assoluti, non tanto del messaggio, ma di quel vissuto interiore emotivo di cui il film poi si nutre. E quindi la preparazione con gli attori, con il cast, è stata molto intensa proprio da un punto di vista emotivo. Alessandro ha lavorato molto, proprio anche fisicamente, su questa rabbia attraverso la quale lui è protagonista, il personaggio del film, elabora il lutto del padre. Invece penso a Giorgio che si è dovuto immedesimare in questo, come dire, proprietario industriale ricco che si trova a essere investito dal dolore più lacerante e a non sapere, poiché è uomo abituato alla perfezione della vita, a non sapere come gestirlo. E anche Giorgio ha fatto un lavoro molto forte per capire come a 60 anni si possa arrivare a essere risucchiati dal vortice del dolore. Oppure Roberta, che ha interpretato Giulia, dove il personaggio era scritto su di lei. Quindi lei addirittura aveva ricevuto le primissime stessure un anno prima, quindi lì c'è stato proprio un lavoro di lettura, ha vissuto tutta l'evoluzione del personaggio, ha potuto lavorare con me al personaggio. E quindi si sentono molto, più che personaggi, le vite. Le vite lavorate, elaborate, interpretate in modo quasi attivo dagli stessi attori. Ecco, mi ricollego un attimo ad altre dichiarazioni che ha rilasciato Marverti. Rispetto alla serenità che si è vissuta sul set e a quello che ha potuto lasciare questo film una volta concluso. E mi ricollego ulteriormente ad altre cose che hai detto tu rispetto a dove può arrivare il film, quali coscienze può smuovere la strada verso casa. Effettivamente sta andando così? Beh, è una domanda che credo sia il primo che me la pone, quindi voglio darti una risposta giusta, come dire. È un film che è partito con, questo ne sono consapevole, con tante speranze, con tanti obiettivi. Io sono il primo ad aver alimentato una forte convinzione che questo film potesse andare lontano. Non sono di quelli che vuole vendere chissà quale immaginario, chissà quale ideale. Ci sono stati anche momenti di sconforto nel corso di quest'anno, perché fare un film indipendente, fare un film con uno sforzo economico di un certo tipo, dove coinvolgi le persone e quindi chiedi un supplemento di energie, non sostenuto dal dato economico, e quindi quel supplemento di energie speri di poterglielo rendere in forme non economiche, ma in forme artistiche, in forme di riconoscenza, di riconoscimento, in forme di una gratitudine che venga appunto dal fatto che le persone vedono l'opera finita e possono sentirse appagate. Quindi la paura che poi con l'appagamento in qualche modo, la paura passata, estiva, che con l'appagamento non ci sarebbe stato o non nella forma, diciamo, in cui io speravo. E invece passo dopo passo, non nella forma esplosiva, nel senso, non c'è stata una prima dove due mila persone, cioè ci stiamo guadagnando in una forma del tutto nuova, secondo me, come abbiamo fatto nella produzione e come abbiamo sul set. Festival dopo festival ai nostri spazi, sono cerchi concentrici che si allargano. Con New York abbiamo conquistato un primo pubblico, poi sono arrivate Siena, Portland, San Paolo e il cerchio è aumentato. Le persone rimanevano sempre più soddisfatte, più appagate. E poi è arrivata Roma, dove finalmente ci siamo confrontati con un pubblico italiano, anche molto, come dire, esigente. C'era non solo tutta la truppa, ma c'erano persone che attendevano il film da un anno, un anno e mezzo. E quindi lì il rischio di disattendere totalmente un'attesa che hai prodotto per così tanto tempo. E poi invece quell'applauso di quasi dieci minuti, che potreva essere di servizio, ma io l'ho sentito vero invece, perché c'era molta commozione, le persone sono rimaste talmente emozionate dal film, un'emozione vera che ha nutrito me, ma ha nutrito gli attori, tutta la truppa. Ed è stata la dimostrazione che il lavoro che abbiamo fatto, in due anni, dalla scrittura fino all'ultima immagine spesa su quello schermo, è valso a tutto il sacrificio che abbiamo fatto. In conclusione, con l'uscita del film in questi festival, diciamo che si è arrivati a un punto di fine, se mi permetti di dirlo, l'hai dichiarato tu stesso. In realtà il punto di fine è anche un punto ulteriore di inizio, un secondo inizio, un secondo livello di inizio. E rispetto a questo, dopo Roma, a dicembre ci sarà un nuovo festival, che tra l'altro fa parte di un circuito europeo di festival indipendenti, che a sua volta è collegato con il Sundance Festival di Robert Redford. Ecco, tra Roma e il festival indipendente che ci sarà appunto a Foggia inizio dicembre, come si sente, Samuele, e come, naturalmente non abbiamo la sfera di cristallo, ma come pensi di arrivare a quest'ulteriore passo? Guarda, io sono molto contento, innanzitutto di come è andata, ma di come si prevede che andrà. Il festival di Foggia, uno dice, Roma, Venezia, Torino, ma poi non si accorge che ci sono degli snodi, su tutto il territorio italiano, festivalieri, molto importanti, molto vivi, molto vitali. Foggia è stato sicuramente, ed è uno di questi, è un festival che ha accolto molto bene questo film, almeno per ora a livello di selezione, e ora vedremo come sarà il pubblico durante il festival. Noi di questo siamo molto contenti perché fa parte di quel cerco, appunto, quell'eco, che il film, un film indipendente, un film che è stato prodotto in questo modo, deve avere. E quindi Foggia, sì, che sarà appunto nella prima settimana di dicembre, sarà proprio un nuovo cerchio che ci permetterà di ampliare un po' il senso, il significato di questo film. In anteprima ti posso dire tranquillamente che il 25 novembre saremo al Festival Internazionale dell'Aquila come evento speciale con il rapporto importante che c'è stato con il Conservatorio. Subito dopo Foggia, circa 6-7 giorni, saremo al Festival Internazionale del Film del Garda, anche quello è un film molto importante per le opere prime, che va a comporre altri tre festival, il tutto nel giro di 15 giorni, che andranno a rafforzare quei cerchi di cui parlo. Un film indipendente deve muoversi in quel modo, lanciare il sasso e far sì che quel sasso possa muovere più cerchi possibili su una superficie che altrimenti non ci darebbe spazio di agire. Noi non possiamo agire nel piccolo spazio temporale, ma dobbiamo far sì che il film si muova nel tempo. Festival per arrivare carichi in sala in primavera, e per far sì che il film possa continuare a essere visto in qualsiasi contesto, in qualsiasi festival, in qualsiasi programmazione possibile, perché l'abbiamo fatto perché venga visto. Stavo scherzando, questa è l'ultima domanda, te la faccio adesso. Al di là delle premiazioni a Siena, del fatto di essere riusciti comunque a partecipare a dei festival importanti come a New York, come Portland, comunque sentire San Paolo, sentire questi nomi fa molto piacere. Il tuo grado di soddisfazione, anche se non ci fossero state tutti questi, anche quei dieci minuti di applausi, a Roma li avresti, saresti stato comunque soddisfatto oppure no? Allora, sarei credo falso nel dire che non ho avuto i miei momenti no. Il rapporto del regista con un film, credo, io era la mia prima opera quindi lo sto scoprendo ora, però poi quando vedevo i grandi registi dire che un regista tipo Woody Allen, che non vede mai i suoi film dopo averli fatti, o certi rapporti controversi con le proprie opere, perché evidentemente c'è stato un attaccamento così viscerale che non si finirebbe mai di intervenire, di lavorarci ed è come abbandonare qualcosa che ti è stato talmente dentro che dici, una volta che lo togli hai un vuoto talmente enorme dentro che compensarlo con qualcos'altro è difficilissimo. Quindi vorresti che questo rapporto in qualche modo non si trasformasse in un tradimento, non vorresti mai che la tua opera, il tuo figlio ti tradisca, né nell'allontanarsi né nella forma artistica, diciamo. Io sono molto ambizioso e con quest'opera volevo raggiungere un obiettivo molto grande, almeno personalmente, quello di fare qualcosa di bello che emozionasse. In estate mi chiedevo se era così davvero, a me emozionava però arriverà alle persone, quindi i primi dubbi, i primi segnali anche di scoramento, perché dici hai paura che il pubblico non capisca le tue intenzioni e poi mano a mano che le proiezioni si succedevano, e questo l'ho capito a San Paolo, questo non l'ho ancora mai raccontato a nessuno, questo l'ho capito a San Paolo, è stato il momento, lì ho pianto finalmente in modo liberatorio davanti al film, forse perché ero solo, ero solo di fronte, e circondato da un pubblico totalmente straniero, totalmente lontano e non condizionato da me. vedere, non tutto il pubblico, è normale che guardando un film ognuno si costruisca il proprio giudizio, ma vedere buona parte del pubblico, più di metà della sala, con le lacrime agli occhi, con Mossa, che si ferma, e ci ripenso e mi vengono i brividi, e si ferma e vuole che tu gli racconti il film, perché ho voluto dire quella cosa, e ti ringrazia per quel pianto liberatorio che lo spettatore ha avuto alla fine, lì ho capito che avevamo fatto qualcosa non di importante nel senso della fama, del successo, ma avevamo fatto qualcosa di bello perché avevamo regalato a qualcuno, non pretendo la totalità, a qualcuno, a molti, ad alcuni, a diversi, un'emozione vera, e credo che se in qualche modo un film o qualsiasi altra forma d'arte fa questo, fa qualcosa di importante. Risposta secca, quindi la sofferenza e il dolore del film sia riuscito anche a trasportarli fuori dal grande schermo a questo punto. Credo di sì, il dolore, la sofferenza e quella speranza che insieme al pianto forse aggiunge anche un sorriso. Noi ringraziamo Samuele Rossi, regista della strada verso casa, ti facciamo un grande in bocca al lupo per le prossime proiezioni e vedremo più in là che cosa avrà combinato questo film. Ok, grazie a tutti Crepi e speriamo che questa intervista ci porti fortuna. Grazie. Grazie a tutti Crepi e speriamo che questa intervista ci porti fortuna.